Musetti va sul dischetto, Musetti contro Oppici, si attende il fisco dell'arbitro che dice giustamente ai giocatori di non entrare in area di rigore fino a quando il piede di Musetti non impatterà sul pallone, parte la rincorsa di Musetti, il tiro ed è gol, vantaggio del Parma sul colorno, rigore direi magistrale battuto da Musetti, portiere spiazzato, pallone che si è insaccato a mezz'altezza sul palo, diciamo vicino al palo alla sinistra di Oppici e quindi Parma in vantaggio contro il colorno, formazione ricordiamo Milita nel campionato di eccellenza, festeggiano i tifosi crociati che sono belli come il sole, cantano e seguono la rinforza.